Le opere d'arte perdute rimaste negli scantinati del Comune. La sentenza di restituzione agli eredi. La polemica tra il Sindaco Biondi e l'ex Celente sulla responsabilità politica. L'ex Sindaco Lombardi che, 30 anni fa, ha avviato la donazione e che rincara la dose sull'inadempienza degli amministratori. La vicenda della donazione della collezione Pellicciotti al Comune dell'Aquila assume così i contorni di un piccolo giallo estivo cittadino. Questi quadri erano di proprietà della famiglia Irti e venivamo a sapere che questi quadri stavano a Pescara. L'idea della famiglia Irti e quell'altra era quella di servire la città. E io sono andato a Pescara e abbiamo fatto questo lavoro. A riaccendere i fari sulla questione dei quadri persi e della donazione Pellicciotti lasciata all'incuria è stato il consigliere comunale Lelio De Santis. Questa è la più grande vergogna aquilana degli ultimi anni perché si sta sminuendo il senso e il significato del tema che io ho posto con un'interrogazione. Da sempre, storicamente, dall'epoca che ricordo io di Enzo Lombardi che cercò in qualche maniera di recuperare questa collezione in tercento rapporti con gli eredi, questo tema poi si è lasciato così cadere e siamo arrivati a questo punto, al contenzioso attivato giustamente, io ritengo, dagli eredi della famiglia Pellicciotti che hanno, dopo aver sollecitato ripetutamente, che hanno visto confinati, buttati, disprezzati questi quadri in uno scantinato del comune. Polemizzare su questo tema è sbagliatissimo, chiunque lo faccia. Il sindaco aveva una buona occasione su un tema dicendo la verità e riconoscendo eventualmente per parte sua e parte predecessore che c'era stata una scarsa sensibilità. E rimediare andava, secondo il mio modesto parere, riavviato un discorso con gli eredi Pellicciotti, anche se con ritardo, per rimodulare quella convenzione e per rendere sempre più fruibili, anche oggi, quella donazione, quella collezione di 91 quadri di grande pregio, di grande valore, in attesa di realizzare la Pinacoteca si potevano esporre in spazi pubblici. Grazie. Grazie.